Questa settimana si pronuncia essere molto molto interessante lato cripto Quindi non perdiamo tempo e lanciamoci subito nella nostra analisi del lunedì Allora partiamo dal canale youtube e da un po' di tempo che faccio sondaggi pubblico di continuo informazioni Ti invito a rispondere ai sondaggi perché ci sono sicuramente d'aiuto per comprendere cosa sta succedendo intorno al mercato Quindi come ci si sta posizionando lato retail quindi lato nostro e mi aiuta anche a capire su quali temi andare a spingere di più Dove c'è magari più necessità di informazione In questo post qui dicevo sostanzialmente come si era più o meno suddiviso il portafoglio Un 12% è full btc attualmente Poi c'è un 13% che ha una prevalenza di btc e poi degli eth Poi un 50% sono contento di questo risultato che ha una prevalenza di btc ed eth e poi delle altcoin Quindi vuol dire che sta distribuendo un po' il portafoglio E poi questi qua ragazzi no vi prego 100% shitcoin non si può vedere Ci sta e comunque per speculare ci può stare però vi prego vi prego non uccidetevi Ogni volta che comprate una shitcoin immaginatevi cadere dalle scale quindi non comprate shitcoin Scherzi a parte visto che una buona parte ha in portafoglio altcoin e io tendenzialmente parlo molto di più di bitcoin Ma perché parlo molto più di bitcoin? Perché dà un po' il metro per tutto quello che è il movimento poi del mercato cripto Fa un po' da indice se vogliamo bitcoin Quando bitcoin sale più o meno tutto il mercato sale e quando bitcoin scende più o meno tutto il mercato scende Quindi mi concentro su bitcoin perché per riflesso poi viene portato tutto in realtà anche sulle altcoin Però visto che in molti comunque avete un portafoglio altcoin e in molti mi scrivete chiedendomi quali altcoin tenere Quali andare ad accumulare approfittando di eventuali cali In questo video parleremo allora anche di altcoin Visto che ormai sono la cosa che più interessa Vediamo su bitcoin etf flow dal 7 di agosto al 23 agosto Quindi in questo bel range Vediamo il lato high shares quindi black rock Tendenzialmente sempre positivo a parte un giorno di niente assoluto Tutto il resto è positivo Fidelity idem a parte qualche scarico qua e là Da bitwise a arc in giù si inizia invece a scaricare un po' Vediamo poi invece quest'area qui dove c'è un po' di accumulo Diciamo che tendenzialmente vabbè grayscale ovviamente sempre che scarica immancabili Al di là dello scarico di grayscale vediamo qua comparire anche il nuovo etf grayscale Dove in realtà vediamo che ci sono comunque degli accumuli Niente rispetto a quelli che sono chiaramente gli scarichi Però tendenzialmente comunque vediamo delle giornate che sono state positive su bitcoin a livello di entrate E questo ci fa ben sperare su che cosa? Sul fatto che queste aree che abbiamo visto Andiamole a vedere immediatamente qua Queste aree che abbiamo visto sono aree interessanti per gli istituzionali E in realtà facendo un po' di chain analysis viene fuori anche che sono aree interessanti anche per le whales Quindi questo potrebbe essere un'area estremamente estremamente interessante di supporto per il movimento di medio termine E tra poco ti spiegherò perché dico di medio termine Qua intanto per chi se lo chiedesse siamo su Bing X Ti ricordo che c'è una promo per i nuovi utenti e una promo per gli utenti già registrati Chi non si è ancora registrato può avere fino a 5000 dollari in bonus Bonus di trading che possono essere utilizzati per far trading ma non prelevabili Chi invece è già registrato può avere fino a 9000 dollari di bonus I bonus vengono accreditati entro 48 ore dal completamento della task relativa Esempio deposita 100 dollari ne ricevi altri 100 Roba di questo tipo oppure fai trading per 1000 dollari ricevi 100 dollari di bonus Tutte task di questo tipo che vanno ad aumentarti poi quello che è il bonus Ti ricordo c'è tempo fino alla fine del mese Quindi qua sotto ti lascio due link separati con tutti i dettagli Guardali perché è sicuramente una promo interessante che Bing X ha riservato alla nostra community E che quindi ringrazio per questa promo speciale Ora andiamo a ingrandire un po' il grafico e vediamo un po' cosa succede Questo è un grafico giornaliero Nel nostro grafico giornaliero vediamo che si è fatto un bel ripescaggio qua Bitcoin di liquidità E adesso è tornato su Siamo attualmente a 63.727 Abbiamo raggiunto un picco se non va adorato a ridosso dei 64k Sì abbiamo fatto un higher a 64 e 9 quindi quasi 65k Un buon recupero Chiaro siamo sempre su questi livelli comunque di lateralizzazione Quello che dico sempre è finché ci teniamo sopra i 60k o 62k ci sta Cioè Bitcoin sta tenendo botta e sta facendo comunque molta fatica devo dire a tenere botta in questi livelli Se teniamo queste aree è molto probabile che si vada a ritestare nuovamente i 70k finalmente Che è da un po' che stavamo sotto terra E ti devo dire io in queste fasi ho approfittato per comprare ancora un po' Ma come? Dici che arriva una recessione potenzialmente e stai comprando adesso? Non compri dopo quando crolla? Si può creare uno scenario possibile per andare a superare le 80k Ed è proprio questo quello su cui voglio focalizzarmi ora Abbiamo già parlato nella scorsa analisi del lunedì Se te la sei persa guardala Come già detto ci sono tre cose importanti da tenere in considerazione in questi mesi che arrivano Settembre, Ottobre, Novembre In particolare a mio avviso Ottobre e Novembre Quindi fai un mese e mezzo, due mesi Secondo me ci aspettano estremamente interessanti Chi è già dentro il canale Telegram E anche qui ti lascio il canale Telegram qua sotto E gratis entra Li mando delle comunicazioni più veloci Perché chiaramente non devo registrare un video Accendo il cellulare, faccio un videolampo O mando un audio O scrivo un messaggio molto più diretto Gli ho parlato proprio sabato Di ciò che mi aspetto Sul mercato in questo mese e mezzo Che cosa mi aspetto Abbiamo da un lato le presidenziali Che non me ne frega niente se vince uno o l'altro Certo me ne frega relativamente Però lato investitore, lato mercato Non mi interessa che vinca uno o vinca l'altro Perché non è tanto chi vince a far salire il prezzo E in questo caso con presidenziali intendo Che il mondo sta guardando cosa fanno gli USA E tendenzialmente sotto le presidenziali I mercati tengono botta Ma per forza di cose Perché il presidente uscente Non può permettersi che mentre lui sta uscendo Il mercato faccia cagare Perché se il mercato fa cagare Se tanto mi da tanto Se è tutto in crisi, tutto un casino Le persone comuni cosa dicono Vabbè ma io non ti rivoto Voto l'altro, magari cambiano le cose Quindi tendenzialmente si cerca di tenere sulla baracca Tant'è che il taglio dei tassi di interesse E qui arriviamo alla seconda condizione importante È stato confermato e più alto rispetto alle aspettative Questo perché? Perché generalmente il primo taglio È quello che dà ancora uno slancio Un pump E poi da quella fase in poi Si inizia un po' andare a ritracciare Quindi primo slancio di liquidità Effettivamente taglio dei tassi Abbastanza importante La notizia verrà scontata potenzialmente bull E poi terzo il buyback degli Stati Uniti A partire da settembre Dove vanno a di fatto iniettare liquidità Quindi vediamo proprio sotto elezioni Che caso Proprio in tema elezioni Sotto elezioni Vediamo entrare un bel po' di ciccia sul mercato Entra la liquidità Cosa succede? Succede che i prezzi tendenzialmente andranno a salire Quindi mi aspetto un SP500 magari andare a toccare i 6k O di superarli di qualcosina Mi aspetto bitcoin Che torni nuovamente a testare sti benedetti 70k E come ho già detto più volte da più di un anno Mi aspetto il mio target a 80k Questo è il mio target adesso per bitcoin Quindi parlo nei prossimi mesi Che succederà o non succederà Non lo so Non lo posso sapere Io non lo posso sapere nessuno Però questo è il target che sto puntando Ecco perché in queste fasi sono andato comunque ad accumulare Perché altrimenti con l'ombra della recessione e tutto Mi sarei tenuto il mio portafoglio esattamente com'era Non sarei andato ad accumulare chissà quanto Però a mio avviso con un potenziale target a 80k A seguito di afflusso di liquidità Comprare intorno ai 50k secondo me ha ancora senso Comprare intorno ai 50k rispetto al prezzo che avevamo raggiunto intorno ai 70 Significa avere almeno un 20-30% di sconto più o meno a spanne Che ci sta Ci sta tutto Perché poi si traduce da 50-80k comunque con un bel gain Ci sono 30k di gain che non sono male per unità di bitcoin Viceversa che cosa abbiamo Abbiamo un potenziale ribasso dove magari si torna a testare queste aree Cioè intorno ai 30k oppure ai 20k Quindi ancora una volta a ribasso potremmo andare a testare o di un meno 20k Oppure di un meno 30k Come puoi vedere da qua a qua Secondo me c'è un po' di manovra No noi siamo intorno ai 50k Non attualmente in queste fasi dove sono andato a ripescare Intorno ai 50k se mi va giù a 20k o a 30k Io perdo quei 20-30k Se mi va in su vado a recuperare quei 20-30k Quindi è ancora equilibrata la situazione Ed ecco perché in queste fasi ho riaccumulato qualche bitcoin Come ho già detto e come ho avvisato nel gruppo Telegram Sul momento esatto in cui lo stavo facendo D'altra parte quando è sceso sotto i 50k ho anche accumulato qualche altcoin Perché era relativamente scontato Ma questo l'ho già detto nel precedente video Andiamo a vedere un settimanale Anzi no voglio farti vedere un mensile Perché penso sia molto molto interessante da guardare Eccolo qua Questo mensile qua mi lascia ben supporre Che ci possa essere una bella spinta necessaria Per effettivamente andare a toccare sti benedetti 80k Perché vediamo comunque una candela relativamente interessante Un bel calo profondo Un bel assorbimento Un ritorno E quindi siamo attualmente in quest'area Che è un'area che abbiamo già visto e rivisto e rivisto e rivisto Però un'area sicuramente molto molto interessante Qui si capisce che abbiamo avuto di lateralizzazione se vogliamo Uno, due, tre, quattro, cinque mesi Questo è il sesto Cinque mesi di lateralizzazione secondo me sono estremamente interessanti Come alt, come freno un attimo per ripartire Quindi quello che mi aspetto qui adesso è Questo che abbiamo visto Un ritorno qua Magari ancora un po' di lateralizzazione Potenzialmente Potenzialmente Questo è importante a sottolineare Il fatto che mi aspetto un pump In questo mese e mezzo, due mesi Non significa che non ci possa essere un dump prima Anzi Mi aspetto proprio che ci sia un ulteriore calo Magari a tornare sui 55k Potenzialmente 50k Per andare a cancellare tutte le leve E fare un po' di pulizia del mercato Prima di ripartire Chi segue un po' i mercati Sa che tendenzialmente Prima di una ripartenza O comunque prima di un movimento deciso In una direzione o nell'altra Si fa sempre un po' di pulizia E fatta pulizia Si va poi a recuperare Qua già vedo Della pulizia in queste aree Qualcosina Però penso che ci sia ancora un po' di pulizia Si farà magari pulizia di qualche Long piazzato adesso Si va giù Si prendono gli stop loss E poi Pam Si riparte secchi Io vedo questo Poi chiaramente È una mia opinione personale Per non sapere né leggere né scrivere Come si dice La cosa migliore È sempre posizionarsi Long term Perché long term Sappiamo che bitcoin Quello che sta facendo È questo Quindi sta tendendo a salire Di conseguenza In questa fase Può essere interessante Posizionarsi appunto Più long term Piuttosto che concentrarci Sulla speculazione di breve Altro discorso È per le Altcoin Allora BTC lo vediamo Negli ultimi sette giorni Ha un più 7 44% Negli ultimi 30 giorni Ancora sotto Ad un 9% Attualmente E Da inizio Hanno un più 48% Un modestissimo Più 48% ETH segue Ma lo vedo molto debole Io vedo un ETH In questa fase Un po' sofferente Per che cosa Un po' sofferente Per Gli ETF Anzi a proposito Giusto per dare un'occhiata Agli ETF Vediamo che Su ETH Ci sono stati Come c'eravamo detto Dei flussi da parte di Grayscale Anzi tendenzialmente Vediamo proprio qua Che è per lo più Dei flussi E come totale Sì ci sono degli accumuli Lato BlackRock Qua e là Ma sono pochissimi Infatti È più L'uscita Globale Che l'entrata Invece se andiamo ad analizzarci Un Bitcoin Come abbiamo visto prima Vediamo che La somma È comunque positiva Non è negativa Quindi questo è importantissimo Da tenere in considerazione Ancora siamo in scalo Ciò non toglie che TH possa fare molto bene Aspettiamo Siamo a un più 18% Attualmente quest'anno E negli ultimi 30 giorni È abbastanza scontata Tether non la calcoliamo BNB BNB so che dovrebbe Avvenire il rilascio Di CZ Quindi probabilmente Questo ha scontato un po' Vediamo che comunque Relativamente giù adesso In 7 giorni È i 3 giorni Solana Cosa vi devo dire È un to the moon continuo Ci sta 30 giorni È in realtà Abbastanza scontata Però se la sta cavando bene Ripple Vinta la causa Boh Tutti contenti Però ha dei numeri Relativamente un po' morti Quindi non è una cosa Che sto Che sto guardando Onestamente Poi se andrà bene Sono felice Per chi l'ha acquistata Ma non è una cosa Che guardo La vecchia Dogecoin Siamo qua Niente di particolare Sta seguendo un po' Bitcoin Tron si è fatto un bel pump Per la questione meme Quindi c'è un po' di fomo Sulle meme Su Tron Come c'è stata la fomo Di meme Su Solana Sappiamo che sono quelle Quelle dinamiche un po' Un po' particolari Che nessuno prevede Che arrivano a caso E il prezzo parte E infatti Tron sta performando Veramente molto molto bene Rispetto al resto Che è un po' in negativo Gli ultimi sette giorni E venti giorni Trenta giorni Decisamente interessanti Toncoin Toncoin Siamo veramente A un buon punto 140% annualizzato C'è dall'inizio anno Ad adesso Attualmente Gli ultimi sette giorni L'ultimo mese Sotto di un 18 20% Più o meno Per la notizia Dell'arresto Di Pavel Durov Cioè il founder Di Telegram Toncoin Sappiamo che è connesso A Telegram E di conseguenza Il mercato Va giù Se ti sei perso il video A riguardo E questo qui È quello che ho fatto ieri Quindi lo ritrovi subito E gli spiego un po' Che cosa è successo In questa vicenda Quindi lascerei un attimo Da parte Cardano Per gli amanti di Cardano Siamo ancora sotto Da inizio anno Siamo meno 36% Vediamo che Comunque Nell'ultima settimana Siamo andati Relativamente bene L'ultimo mese È ancora in perita Qua ci possono essere Delle posizioni Potenzialmente Che si possono prendere Soprattutto Nel momento in cui Ci sarà uno scarico Magari un po' Su Bitcoin Per pulire le leve Potenzialmente Si potrà andare a posizionare Qualcosina Qua in giro Avalanche Idem Shiba Segue Il compagno Doge Chainlink Polkadot Tutti gli altri Diciamo che più o meno Ragazzi Siamo Siamo in linea Stiamo facendo un pochino Tutti le stesse cose Polygon È molto sotto Ma Comunque In ripresa Più o meno Stiamo facendo Tutti le stesse cose Non c'è Chissà Quale Cosa Particolare Più o meno Siamo tutti Siamo tutti Bilanciati Anche lato altcoin Su quello che è il mercato Ce ne sono tantissime Che vediamo Sono veramente Molto molto scontate Da inizio anno E altre che invece Se la stanno passando bene Ci sono un po' di cose interessanti Da tenere in considerazione Come ho già detto Avevo già venduto Ora sono lì Tranquillo In attesa Con una ancora Piccola quota di altcoin Sul mercato Ho riaccumulato Qualcosina Nel momento in cui C'è stato quel Flash crash Di bitcoin Che è arrivato Intorno ai 48k Comunque sotto i 50k Sono andato a riaccumulare Un po' di altcoin Così di quelle che avevo Quindi ho fatto un po' di spesa E di queste Quello che ho preso Più o meno Sono tornate tutte In profitto attualmente Rispetto il punto Di acquisto La perdita Comunque che ho incassato Non è stata così alta Perché ho venduto Quasi intorno ai top Quindi sono stato Sicuramente Contentissimo Della Della situazione Di questo bull Che abbiamo visto 23-24 Ora Il bull è finito Facciamo le valigie Ci vediamo Tra 4 anni No Anche se mi aspetto Un 2025 Di recessione Almeno in tutta La sua prima fase Ciò non toglie Che il finale Del 2025 Potrebbe veramente Essere un finale Col botto Quindi personalmente Quello che farò È Dampare gran parte Della mia quota Speculativa Di bitcoin A ridosso delle presidenziali Quindi intorno Più o meno A quel valore lì Di 80k Se arriva A quel valore lì Comunque vediamo Dal 70 in su Si prende Vediamo come arriviamo In fase di Appunto di elezioni O comunque sotto Le elezioni Altra cosa importante Le altcoin Molto probabilmente Saranno Belle Pompate Quindi andrò A dampare Quelle Penso totalmente Dopodiché Attendo Semplicemente Lascerò forse Qualche quota Così nel caso In cui mi sbagliassi E non ci fosse Nessun evento Recessivo Quindi non ci fosse Una caduta Dei prezzi Allora in quel caso Lascio comunque Un piede dentro Anche se piccolo Giusto in punta Di piedi Però lo lascio lì Forte del fatto Che comunque Già 23-24 Sono stati due anni Top Lato investimenti Post elezioni A seconda di come Evolve il mercato Probabilmente andrò A riposizionarmi Di nuovo su bitcoin Altcoin E un po' di cose Quindi dipende Tutto da come evolve Nessuno può saperlo In anticipo Bisogna adattarsi Bisogna avere Sì le idee chiare In anticipo Sul come muoversi Al verificarsi Di determinati eventi Quindi avere una strategia Pronta Però poi di fatto La strategia Tu ce l'hai pronta Ma poi scendi in campo E inizia a piovere Inizia qua Inizia là E quindi devi iniziare Ad adattare Questa strategia Quindi devi aspettare Che si verifichino Gli eventi Man mano che si verifichino Gli eventi Tu attivi una parte Piuttosto che un'altra Della strategia In questo caso Quello che farò È proprio questo Quindi a seconda Di come vedo Che si muovono le cose Vado di conseguenza Forte del fatto Che ho una quota Di bitcoin Che tengo sempre lì Fissa Su orizzonti temporali 10-20 anni In accumulo E quella non la tocco È una quota Che ho scelto Di rischio In base al mio portafoglio D'altra parte Ho quella speculativa Che compro Vendo con l'obiettivo Di accumulare di più E comunque portarmi Liquidità Da poter utilizzare Per andare a diversificare Quindi investire Ricordo Il compartimento Investimenti È un compartimento Che prevede Più cose Nel mio caso Cioè non sono Full crypto Un tempo All'inizio Full crypto Poi da lì Pian piano Ho iniziato Ad aprirmi Su azionario Ho iniziato Ad aprirmi Su altri Su altri fattori Startup E altre cose Quindi questo è un po' Il quadro generale Quello che mi aspetto Vediamo man mano Come evolvono le cose Comunque ti porto L'analisi Ogni settimana Qua Ogni lunedì Alle 8 Qui sul canale Prima di salutarti Ti ricordo ancora Qua sotto I link per Bing X Se vuoi goderti Qualche bonus Qui Trovi i link Mi raccomando Iscriviti al canale Così rimarrai Aggiornato Su tutto ciò che succede Sul mercato E ti svelerò Strategie Ti svelerò Quello che personalmente Faccio I miei errori Soprattutto In modo che tu possa Imparare E non commetterli Ed entra anche Nel canale telegram Ancora una volta Il link qua sotto Per avere un canale Diretto Insieme a me Possiamo chattare Possiamo comunicare Puoi farmi tutte le domande Che vuoi Sia io Sia i ragazzi Della community Rispondiamo Io la vedo un po' Come una grande famiglia Dove cerchiamo di aiutarci Un po' tutti A vicenda Quindi qua sotto Ti lascio il link È gratuito ovviamente Ora ti compariranno Qua due video In particolare Ti ho lasciato Questo video qua Che è quello Con l'analisi Dello scorso lunedì Quindi se te la sei persa Dagli un'occhiata E qui c'è anche lì Il video di ciò Che è successo ieri A Pavel Il founder di telegram Ti ringrazio ancora Per essere stato qui con me Un abbraccio E ci vediamo Nel prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti.